Essere grande amico delle star più importanti è questo il segreto delle fotografie di Herb Ritz, in mostra a Roma all'Auditorium Expo dell'Auditorium Parco della Musica fino al 21 aprile 2014. Ritrarre i volti di uomini e donne prima che di celebrità, coglierne il carattere, l'ironia o la sensualità delle persone e non dei personaggi, risiede qui la differenza tra un fotografo e un amico, la possibilità di cogliere l'intima essenza di un volto perché si è in stretta confidenza con il soggetto fotografato. Madonna, Michael Jackson, Nicole Kidman, Richard Gere sono stati amici di Ritz, scomparso nel 2002 per complicazioni dovute ad una polmonite. Annoverato fra i migliori 20 fotografi di sempre e valutato come il più grande degli ultimi 20 anni, Ritz può essere considerato erede diretto del bianco e nero di Helmut Newton. A lui Madonna affidò le foto di copertina di True Blue, così come Litz Taylor, il corpo distrutto dal cancro. In piena luce è il nome della mostra che espone fotografie che provengono dalla Herb Ritz Foundation di Los Angeles. Il ritratto perfetto dello star system americano che Herb conosceva bene e da vicino. Compone la rassegna fotografica che include anche scatti del reportage africano, i paesaggi della California e i celebri corpi femminili e maschili, fiore all'occhiello della produzione del fotografo che studiava attentamente la scultura greca per riprodurla su corpi di carne. Vi siete persi la puntata di ZTL? Niente paura, potete rivederla sul nostro sito www.ztl.gimdo.com Troverete nuovi contenuti e tante novità. Grazie per la visione!